In qualità proprio di Presidente dell'Associazione Internazionale di Arte e Psicologia, qual è il suo commento su un'iniziativa come Prospettive d'Arte? Secondo lei qual è il valore di una mostra virtuale di opere d'arte e di questa fattispecie di opere d'arte? In questi giorni di distanziamento sociale siamo tutti un po' obbligati anche a utilizzare dei modi a volte non usuali di fruizione e di comunicazione reciproca, però mi verrebbe da sottolineare che Heidegger dice che l'essere umano è volontà e rappresentazione, che le opere d'arte sono di per sé una rappresentazione della realtà, quindi in parte sono una realtà virtuale di per sé, rimandano a un'altra realtà di cui sono una testimonianza e quindi questa possiamo dire che è una galleria virtuale al quadrato, quindi una galleria virtuale di opere d'arte. Ecco, mi sembra una cosa molto interessante e ho provato come sono appassionato di esposizioni d'arte, per cui sono andato nel sito e ho in un qualche modo fatto un viaggio all'interno di questa galleria, mi sono soffermato nelle varie opere e mi ha colpito questi quattro vertici della galleria stessa, quindi questi quattro gruppi, diciamo una parte il lavoro di Ultra Blu, l'altra del gruppo della Sicilia e poi le due esperienze, diciamo, brasiliane. Ecco, ognuna con la sua cifra particolare e all'interno ciascun autore con la sua cifra particolare. Ecco, quello che mi ha colpito, al di là della difficoltà cliccando di vedere ciascuna opera a schermo intero, ma al di là di questo limite tecnico, ecco, la possibilità di fruire opera per opera, ecco, mi ha reso, diciamo, mi ha fatto venire un sacco di pensieri. Ho anche osservato una prima differenza, la differenza tra il vedere delle opere di cui conoscevo la sede degli autori. Ero andato dentro la sede di Ultra Blu, per cui ho una rappresentazione mentale del luogo e delle persone, mentre delle altre dovevo rappresentarmi, immaginarmi dove saranno e quali sono gli autori. Ecco, diciamo, ho visto questa prima differenza che in alcune avevo la possibilità di visualizzarmi il volto degli autori e il luogo dove sono nate, mentre nell'altra dovevo, in un qualche modo, avevo una mancanza di una rappresentazione precisa, ma questo non mi toglieva, c'è il bello della diretta, la possibilità che l'opera mi parlasse senza nessun pregiudizio, non sapevo nulla, né sull'autore, né sull'uogo. Diciamo, la tipologia delle opere, ecco, diciamo, siccome l'iniziativa ha a che fare con una, in che modo, in questo periodo di chiusura, dare il massimo di apertura e di possibilità di riflessione sulla tematica del disagio e della disabilità in rapporto all'arte. Allora, quello mi sembra, ecco, non conosco dall'interno tutte le, diciamo, le quattro realtà, conosco più specificamente la realtà di Ultra Blue, che ha permesso di rompere alcuni schemi attorno all'arte outsider, e quindi, ecco, l'arte outsider parte dalla concezione iniziale di Buffet, un po' sulla, l'arte cosiddetta, era già una rottura dal concetto di arte psicopatologica, quindi era cosiddetta l'art brut, quindi un'arte non accademica. Possiamo dire che anche i grandi artisti dell'Ottocento, che non erano invitati al saloon, erano degli outsider, quindi la grande arte normalmente nasce come outsider, proprio perché se grande arte riesce a essere qualcosa di innovativo rispetto agli schemi e quindi di volta in volta l'arte, il processo creativo, ha la possibilità col far crescere, allargare l'orizzonte. Quindi, ecco, l'esperienza di Ultra Blue trovo sia particolarmente interessante perché ha rotto questo schema dell'atelier d'arte delle persone diversamente abili ed è una, come dire, uno spazio di co-working fra diversamente artisti. Sono artisti, ognuno con la sua soggettività e vi piace la nozione che loro usano di normotipici o normo atipici, ecco, diciamo questa, e quindi ecco, diversi artisti e allora all'interno dell'esperienza di Ultra Blue ha molto colpito i diversi generi artistici tra l'esperienza dell'iperrealismo della collega che, diciamo, dipinge gli autobus di Roma e quindi in un qualche modo inserendosi in un filone dell'arte moderna dell'iperrealismo con particolare competenza. Poi, diciamo, gli altri lavori del finissimo fumetto, possiamo dire, delle parate oppure della Tosca, del nostro bravissimo altro artista. Ecco, poi, diciamo, anche la tematica del naturalistico, diciamo, di delle nature morte, che viene interpretata in maniera estremamente rigorosa da un'altra artista. Ecco, una tematica che ho trovato abbastanza trasversale nei vari gruppi è quella anche delle figure mostruose. In un qualche modo, il modo per esorcizzare quella che può essere l'emergenza di emozioni terrifiche, mettendole, diciamo, e portandole sulla tela. Ecco, diciamo, possiamo dire che la possibilità di rappresentare quello che fa paura è il modo per non renderlo più in fandom, quello che non può essere detto. A volte quello che non può essere ancora detto può essere dipinto. L'arte, in quanto tale, è outsider. Nel senso, l'artista, la funzione, diciamo, educativa, catartica dell'artista è che riesce, ecco, Freud lo dice con una precisione estrema, dice l'artista è colui che, in preda a struggenti desideri, riesce a realizzare un oggetto che ha per alcuni aspetti gli stessi effetti della realtà. Faccio un esempio. A Reggio Emilia, quando fu ricoverato alcune volte in ospedale psichiatrico, lì Gabue, aveva disegnato nella parete della camera da letto, dove dormiva, una tigra estremamente realistica. Il suo vicino, ecco, di letto, aveva molta paura, come se la potenza dell'artista è che riesce a creare un oggetto che riesce ad evocare sentimenti simili alla realtà. E questo non lo fa per una, come dire, un gioco intellettuale, lo fa perché è costretto l'artista per tenere a bada, per organizzare, per trovare un ordine ai suoi oggetti interni o per portare al di fuori delle paure in un qualche modo terrifiche e le organizza in un modo tale che il prodotto estetico ha la possibilità di permettere anche ad altri attorno a lui di avvicinare questi vissuti. Quindi possiamo dire che qualunque artista, se è un vero artista, ha la possibilità, proprio perché è in presa diretta con delle parti in ombra di se stesso che non conosce consapevolmente, ma ha la possibilità di interpretare e tradurre attraverso l'opera d'arte. Una volta che ha prodotto l'opera è compito dei critici cercare che cosa c'è dentro. L'artista ha finito il suo lavoro di testimonianza portando fuori, quindi in qualche modo è un educatore, nel senso di educere, tira fuori da quello che è in ombra qualcosa che diventa nutrimento anche per tutti gli altri. All'interno di questa comune valenza outsider dell'artista in questo tale, l'arte cosiddetta outsider in senso tecnico è l'arte che nasce in contesti in un qualche modo diversi da quelli che sono le tradizionali luoghe della produzione artistica. Quindi l'arte o nata da soggetti che sono anche per motivi pregiudiziali considerati diversi, il disabile o la persona con una stigma psichiatrica, o anche persone che sono outsider per motivi sociologici, una persona che è al di fuori di quelli che sono i circuiti. Quindi si può essere outsider in tanti modi e l'autenticità di un artista outsider se riesce a partire dal luogo dove lui è, di autenticamente trasferire quello che in un qualche modo vede di se stesso. Un ultimo concetto, la psicanalisi solo recentemente ha un po' ridefinito i confini dell'inconscio, mentre prima considerava l'inconscio quel luogo dove ci sono le esperienze che prima di cui erano consapevoli e che un trauma aveva in un qualche modo rimosso, più o meno come in un computer se uno un file lo va a mettere nel cestino. Poi basta schiacciare il cestino, schiacciare il tasto ripristina e uno lo riporta nel testo. Ecco, in un qualche modo la psicanalisi un tempo poteva avere l'idea che l'inconscio è il cestino dove ci sono delle cose basta solo andarli a tirar fuori. Ecco, attualmente noi abbiamo sempre di più, anche alla luce delle neuroscienze, l'idea che esistono una quantità di esperienze mentali che non hanno mai avuto una rappresentazione di tipo narrativo e quindi non è possibile riferirle in parole, solo una traduzione musicale o grafico-pittorica o una danza possono in un qualche modo rappresentare qualcosa di cui il soggetto stesso è assolutamente inconsapevole e quindi quest'area di inconscio cosiddetto non rimosso, secondo una nuova terminologia psicoanalitica, è quell'area a cui, ecco direbbe Elias Canetti, solo le arti possono accedere. E sempre Canetti diceva, non tanto per illuminarla quest'area, ma per darci la percezione che c'è. Non è che noi con un fiammifero illuminiamo una notte senza luna, però abbiamo l'idea della immensità di quel buio. Quindi ecco, in un qualche modo l'art, soprattutto l'art outsider, ha una grandissima possibilità di coeducazione, sia permette al soggetto di poter rappresentare il suo mondo interno e permette alle persone attorno a lui di conoscerlo e che quindi ha la possibilità di far nascere un dialogo. In questo lavoro che l'Istituto di Ortofonologia sta portando avanti con prospettive d'arte, ecco questo valore di educere, cioè di portare fuori comunque degli aspetti un po' poco rappresentati con la parola, ecco al luogo, cioè riesce in questo compito? Certo, mi sembra che in questo momento particolare, in cui sembra che dobbiamo essere chiusi, ogni cosa che testimonia che in realtà è possibile anche dialogare, come cance non sappiamo e non possiamo non sapere, siamo chiusi ma non possiamo essere chiusi ed è possibile, allora possiamo dire che questa esperienza, questa iniziativa fatta a Lido rappresenta il senso stesso del senso della produzione estetica, come dire che c'è la possibilità di tirar fuori per libere associazioni quello che c'è per farlo conoscere nella convinzione che proprio attraverso queste libere associazioni che c'è la possibilità di conoscere e quindi di dare beneficio sia al soggetto che rappresenta se stesso e ci permette tutti in un qualche modo di liberarci da concezioni estremamente, come dire, restrittive dell'essere umano. Quindi ecco, altro concetto che mi sembra importante, diciamo, il concetto di presentare le opere, come dire, di atelier di disabili non è una cosa di adesso, però il concetto in passato era quasi di ghettizzare questo tipo di produzione con un'etichetta che è l'arte dei disabili. Un tempo c'era il concetto di arte psicopatologica, come se il senso di questa operazione fosse di tipo diagnostico, come se la produzione estetica fosse una modalità tecnica per il terapeuta per fare una diagnosi. Ecco, possiamo dire che, oppure allargando il criterio, la stessa psicoanalisi per un certo tempo aveva quasi l'illusione di poter psicoanalizzare a distanza, diciamo, gli artisti studiando le loro opere. Come se ci fosse uno sguardo un po' intrusivo, interpretativo, della psicologia rispetto all'arte. A me piace anche vedere la posizione inversa, in che modo le arti riescono a dire qualcosa alla psicologia. Non è la psicologia che interpreta le arti o gli artisti, ma la produzione estetica, ecco, diciamo, in questo Gaetano Benedetti ha avuto delle pagine estremamente, diciamo, illuminanti su questo. È l'arte stessa che ci disegna, ci ridisegna degli scenari, delle mappe della soggettività umana a cui gli stessi addetti ai lavori, ecco, non erano così, diciamo, vicini. Quindi è come se l'arte, la vera arte, indipendentemente dalla tipologia clinica, sociologica, anagrafica dell'artista, la vera arte, ci dice qualcosa di molto significativo su chi siamo. Ci parla dell'essere umano in quanto tale. Alcune caratteristiche che anche, diciamo, differenziano. Allora, abbiamo accennato a questa galleria Ultra Blu, che ha la sua sede lì nel quartiere Prati, con questo piccolo gruppo in cui si alternano ragazzi di età diverse e con profili di soggettività molto diverse, tutti affiancati, diciamo, da questa comune passione per l'arte e con una, come dire, ecco, è come una bottega di un artista dove Virginio Mollicone, che in un qualche modo, diciamo, il facilitatore di questo, lo stimolo di questa galleria, dà proprio questo massimo stimolo ai talenti di ciascuno. Ecco, mi ha colpito molto il gruppo siciliano, come se all'interno dei lavori ci sono fondamentalmente due filoni, uno con il cuore, ecco, mi sembra la tematica del cuore che viene rappresentata così in varie opere, e anche una del sole, una in particolare c'è il sole sullo sfondo e il cuore in primo piano, quindi la sintesi di questo paesaggio esterno, la storia della Sicilia, così, è un paesaggio interno. E poi, diciamo, mi colpiva, come una stile abbastanza unificante dei lavori del gruppo siciliano, l'utilizzo, diciamo, di colori molto vivaci e di una pennellata abbastanza, quindi un pennello abbastanza largo, quindi ecco, diciamo, delle tracce molto decise, e una in particolare un'opera, ecco, diciamo, traccia, ecco, non tanto in termini naturalistici una parte solo del cuore o il sole, ma un profilo intero di una persona, quindi tutti questi oggetti che in un qualche modo si possono sintetizzare in quello che è il soggetto intero, come i vari oggetti parziali nello sviluppo umano, attraverso l'empatia, attraverso il rispecchiamento, ecco, diciamo, una specie di idea che una soggettività adulta matura implica un noi, quindi un qualcosa che noi abbiamo messo insieme, la razionalità, la fantasia, io, l'altro, il mondo interno e il mondo esterno. riflettiamo in questi giorni di coronavirus dove il problema dell'ambiente, dell'ambiente esterno generale, non può essere distinto da quello che è il profilo psicologico, quindi in che modo le traiettorie individuali e le traiettorie della collettività e la traiettoria del pianeta Terra sono intrinsecamente collegate fra di loro, e un'opera d'arte del gruppo dei palermitani, ma ha sollecitato questa riflessione. Poi un altro gruppo, diciamo, ho avuto un po' di emozione vedendolo, perché conoscevo un po' la storia di questo museo, un po' delle esperienze di Nise de Silveira, in Brasile questa donna straordinaria, la prima donna medico del Sud America, la prima donna psichiatra del Sud America e la prima psicoanalista, possiamo dire, anche del Sud America. Potremmo anche dire, come dire, junghiana naturale, nel senso che ha conosciuto Jung, che lei era già formata, quindi aveva già fatto queste esperienze, per cui ebbe più una specie di conferma dall'incontro con Jung di alcune sue intuizioni, dove essendo donna sudamericana, possiamo dire, era stata un po' avvantaggiata nel suo processo di avvicinamento al mondo interno. E ecco, lei realizzò all'epoca, immaginiamo, moltiplicandolo per cento, le difficoltà che può aver avuto, pensando a quelle che ha avuto Basalia in Italia. Quindi immaginiamo questa donna che all'interno di un ospedale psichiatrico ha cominciato a utilizzare questo codice delle arti, grafico-pittorica, ma anche la musica, la danza, e a documentare e raccogliere questi prodotti dei pazienti intesi come prodotti di artisti, come se la dignità del paziente viene ulteriormente confermata così leggendo la sua opera come un'opera che ha lo statuto di un'opera d'arte e di conseguenza il paziente ha lo statuto dell'artista. Ecco, le opere del gruppo originato dall'esperienza di Misa del Silvea colpiscono per l'intensità del colore e in un qualche modo il genius loci. Ecco, l'altro gruppo invece sempre brasiliano di, non ricordo la città, ecco, Sao Tomé se ricordo bene, sì, ok? Ecco, mi colpisce per la differenza all'interno delle produzioni tra una parte più minimalista, diciamo, fatta solamente con la matita, sono disegni in bianco e nero, dove però, ecco, anche qua, le foto in bianco e nero a volte riescono a rendere, diciamo, i contrasti in maniera molto precisa, quindi ecco, questi disegni apparentemente minimali, apparentemente tipici, diciamo, di quelli che può essere il disegno infantile, ma se letti con molta attenzione, ecco, ci rivelan dei segreti inesplorati. Anche lì ricordo che c'è una specie di variante moderna del drago, non so se è il drago oppure un qualcosa tipo il Guerra Stellari, una specie di figura che non sappiamo se è il difensore dall'emico oppure il nemico stesso, in un qualche modo qualcosa di molto meccanico, elettronico ed è sicuramente molto potente, di cui appunto ci si deve interrogare, quindi un personaggio mentale molto interessante. Ho visto accanto a questo invece l'altra parte di produzione, dove domina il colore, ma anche il colore prevalentemente un colore giallo, quindi ecco, mentre i palermitani sono molto più policromi, e anche, diciamo, che di Rio de Janeiro, questa esperienza di San Tomeco mi colpisce un uso relativamente parco del colore, una grossa parte di utilizzo della matita, e possiamo dire che ogni opera meriterebbe, diciamo, un'accuratissima cura. Ecco, io posso solo dire quelle che sono state le osservazioni di un, come dire, di un turista che ha passato all'interno di questa galleria d'arte, di cui ringrazio l'Istituto di Otofonologia di avermi dato il biglietto d'ingresso per entrare, e così affidole queste mie impressioni a casa. Possiamo dire che l'insieme delle opere d'arte che sono state raccolte lì a questa mostra del Lido, possiamo considerarli un po' dei talismani che ci permettono di avvicinare delle realtà singole e collettive, ma soprattutto ringraziamo questi artisti per questo dono che ci danno per avvicinarci ai nostre ombre interne, visto che il processo di crescita non ha mai fine fino a quando siamo sotto il cielo. Questo è il pensiero, e quindi anche un grazie a tutti gli artisti che non conosco di persona, e grazie per i curatori della mostra.